ciao amici sapete cosa sono i superfood sono i cibi con il mantellino e la s di super squaletto buona questa in effetti sì sono cibi con i superpoteri anche se non hanno il mantello secondo gli esperti di nutrizione i superfood sono cibi con una combinazione di nutrienti così ricca da essere alimenti completi di per sé con grandi benefici per la salute oggi vediamo i tre superfood più potenti di sempre per dimagrire se vi piace l'idea mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 semi di chia i semi di chia sono tra i superfood che preferisco sono simpaticissimi e pieni di benefici ne ho parlato in questo mio video i semi di chia sono amici della linea grazie alle loro fibre gelificanti che immerse a lungo in un liquido si addensano e creano una specie di gel questo gel è molto salutare per l'intestino e riduce il senso di fame lo sostiene lo european journal of clinical nutrition i semi di chia contengono anche omega 3 proteine minerali vitamine potete usarli per fare un delizioso budino come spiego in quest'altro video 2 avocado questo è un altro di quei cibi che io adoro è versatile cremoso super nutriente si può usare sia per ricette dolci che salate l'avocado contiene proteine acidi grassi buoni omega 3 minerali è il momento di iscriversi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non lo avete fatto e se trovate utili i miei video abbonatevi al canale per sostenere con un piccolo contributo il mio grande lavoro di divulgazione grazie 3 cioccolato fondente mi prendi in giro ma no lo dice la scienza dopo vi consiglio di andare a vedere questo mio video sul cioccolato fondente la university of copenhagen ha condotto un esperimento con il cioccolato fondente sentite qua i partecipanti che hanno fatto snack a base di cioccolato fondente avevano meno voglia di mangiare fuori pasto rispetto a chi aveva mangiato cioccolato al latte ovviamente si parla di cioccolato fondente almeno al 70 per cento di cacao senza zucchero bianco se scegliete questo cioccolato fate il pieno di antiossidanti minerali proteine e una leggera quantità di caffeina che favorisce la sazietà ora condividete questi super cibi con i vostri amici mangia sano e dimagrisci